Io ho notato che molte volte io facevo degli sforzi bestiali a parlare, a dire un sacco di battute, non succedeva niente, invece altre volte stavo così, fissavo con faccia disgustata una che mi diceva una cosa e la gente rideva. Allora ho capito sta cosa e ho detto, faccio niente, quindi... Con faccia come? Capiti? Non ho fatto niente, ti guardo schifato e la gente rideva. E che viene, la carica è proprio, finita.